Ciao a tutti ragazzi, oggi vi mostrerò come richiedere ufficialmente assistenza al reparto tecnico commerciale di Gamehosting. Basterà andare alla voce gamehosting.it slash minecraft, vi aprirà questa pagina qui, dovete andare alla voce account, di seguito accedi. Dovrete inserire indirizzo email e password scelti in fase d'ordine. Una volta effettuato il login vi ritroverete nella pagina personale del cliente. Alla voce apri nuovo ticket sarà possibile aprire un nuovo incidente da segnalare al reparto tecnico commerciale.